Le nubi si addensano sul Renzo Barbera. Davanti ai propri tifosi il Palermo si inchina ancora una volta all'avversario di turno, nell'occasione un Venezia che è raggiunto in Sicilia da penultimo in classifica. 1-0 per i Veneti, il risultato finale è seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Corini che viene risucchiata in quart'ultima posizione di classifica. I fischi del pubblico a corso in Viale del Fante, nonostante la giornata di pioggia, hanno fatto da colonna sonora per buona parte del match e soprattutto alla fine per quella che è apparsa una delle partite più brutte dei Rosa nella gestione Corini. Ad una prestazione negativa, troppo confusionaria in difesa, centrocampo ed attacco, con l'esclusione del portiere Pigliacelli, migliore in campo, si è aggiunta anche la sfortuna e le decisioni arbitrali. Le dritte del VAR hanno fatto sì che Manganiello annullasse al Palermo il gol del possibile 1-1 siglato da Bettella ed un calcio di rigore. Un altro tiro dagli 11 metri invece è stato fallito da Brunori al secondo penalti consecutivo sbagliato. Palermo dunque in grandi difficoltà e domenica c'è un'altra sfida importante, la trasferta di Benevento. Al termine della gara il bicchiere di Corini, nonostante tutto, è mezzo pieno. La partita, secondo me, i primi 20-25 minuti abbiamo provato a giocare, abbiamo creato le potenziali situazioni per essere pericolosi e a volte è mancata la scelta finale corretta. Abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti del primo tempo dove il Benozzi sicuramente ci ha messo in difficoltà, è stato molto bravo Pigliacelli a tenerci dentro la partita. Il secondo tempo è iniziato bene, abbiamo avuto la situazione del rigore che poi è stato tolto e che poteva sbloccare la partita a nostro favore. Abbiamo preso un gol su un tiro sbagliato da parte del Venezia, una deviazione che ha messo in gioco il giocatore del Venezia, ma la squadra ha reagito in un momento delicato, ha creato le premesse con un altro calcio di rigore che purtroppo non ci siamo riusciti a realizzare. Abbiamo fatto il gol del pareggio che ci è stato tolto e di conseguenza è una partita che nel complesso non meritavamo assolutamente di perdere e dove abbiamo affrontato un avversario che sicuramente quando è venuto qui era ultimo in classifica ma che ha dei valori importanti e ne avevamo la consapevolezza anche nel preparare la gara.